Il caso delle azioni ex Tercas ha rappresentato un momento cruciale nella tutela dei risparmiatori coinvolgendo centinaia di cittadini che a seguito del commissariamento della banca si sono ritrovati con titoli completamente privi di valore. Una recente sentenza del Tribunale Civile di Teramo ha ribadito con forza l'obbligo degli istituti di credito di fornire informazioni chiari, complete e personalizzate ai propri clienti. La giudice Daniela Dadamo ha evidenziato come un prospetto informativo di 222 pagine per quanto dettagliato non sia uno strumento adeguato per consentire a piccoli risparmiatori di comprendere appieno i rischi delle operazioni finanziarie. Secondo la sentenza è compito delle banche non solo fornire documenti tecnici ma anche garantire che le informazioni vengano spiegate in modo comprensibile e adattato alle esigenze e alle conoscenze dei clienti. Questo principio è stato confermato respingendo il ricorso della banca contro una decisione precedente che aveva riconosciuto il diritto al risarcimento di un risparmiatore. Quest'ultimo aveva investito circa 5.000 euro in azioni nel 2006, anni prima del commissariamento della banca nel 2012 e del successivo ingresso della Banca Popolare di Bari. Negli ultimi anni vicende come questa hanno contribuito a rafforzare le normative in materie di trasparenza bancaria sia a livello nazionale sia europeo. La Corte di Cassazione ha consolidato il principio secondo cui gli intermediari finanziari devono garantire che i loro clienti possano operare scelte consapevoli fornendo loro tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e accessibile. La vicenda delle azioni ex terca si è diventata un esempio emblematico mostrando l'importanza di proteggere i risparmiatori da decisioni finanziarie prese senza una piena comprensione dei rischi.